La torcia del petrolchimico continua a sfiammare a intermittenza, accade ormai da alcuni giorni. Il bagliore è visibile a diversi chilometri di distanza, come vediamo da queste immagini. Ma niente paura, si curano gli enti di controllo preposti. Quanto sta accadendo nell'ultimo periodo è la conseguenza dell'incidente avvenuto il 13 novembre scorso, quando si è verificata un'esplosione eseguita da un incendio in un impianto di pressurizzazione di polietilene. La quantità di prodotto è rimasto inutilizzato e fuoriuscito dopo l'esplosione, ora va convogliata in candela. Il fenomeno era stato messo in preventivo e Universalis aveva infatti comunicato alle autorità competenti che le sfiammate sarebbero andate avanti per un po' di giorni, proprio come sta accadendo. I cittadini però temono che i livelli di benzene nell'area possano provocare danni alla salute, ma stando ai primi rilievi effettuati dall'ARPA non sono emerse significative criticità in relazione ai livelli degli inquinanti. Intanto nei giorni scorsi, come si ricorderà, sono stati posti sigilli all'impianto di pressurizzazione. Il Pubblico Ministero del Pool Reati contro l'Ambiente e la Pubblica Amministrazione della Procura di Brindisi, Francesco Carluccio, ha disposto il sequestro probatorio allo scopo di tenere cristallizzato lo stato dei luoghi per consentire agli esperti di stabilire le cause dell'incidente. Quindi, al momento, niente paura, il fenomeno delle sfiammate dovrebbe terminare senza danni, almeno si spera.